Nel corso della settimana l'Italia continua a essere esposta a correnti fredde in discesa dall'Artico che piloteranno nuove perturbazioni. Tuttavia nelle prossime ore il tempo migliora sulle regioni settentrionali e il medio alto vessante tirrenico con maggiori schiarite. Ancora una maggiore nuvolosità interessa invece il medio adriatico del sud dalle prese con pioggia a carattere sparso ed anche qualche temporale soprattutto sui vessanti tirrenici. Questa situazione non subisce particolari variazioni almeno fino a mercoledì quando invece torneranno ancora delle nubi al nord sulla Toscana sulla quale non escludiamo anche qualche breve isolato piovasco ma il maltempo insisterà soprattutto giovedì in particolar modo sulle regioni centro-meridionali alle prese con questo nuovo profondo voltice di bassa pressione alimentato da aria fredda dall'Europa settentrionale che darà luogo a un sensibile abbassamento delle temperature soprattutto sulle regioni centro-meridionali sulle quali tornerà anche la neve sull'Appennino intorno ai mille metri ma tratti anche a quote più basse soprattutto tra Abruzzo e Molise mentre il centro nord Italia soprattutto le regioni settentrionali rimarranno all'asciutto con spazio per maggiori schiarite ma ancora venti forti soprattutto sulle Alpi ma con tempo generalmente asciutto. Con questo è tutto per maggiori dettagli vi invito anche a consultare il nostro sito trebimeteo.com